Ah, che delirio. Vabbè, però adesso almeno... Per una cosa spero che Dio sia contento. Hanno letto il leghista Lorenzo Fontana alla camera. Lorenzo Fontana non è solo leghista. Dire che è leghista è riduttivo. Lui è un super cattolico. Oggi nel discorso come prima cosa ha salutato il Papa. E' uno che ama il Vangelo. Il Vangelo, lui, lo ha studiato a fondo. E lo sa anche interpretare molto bene il Vangelo. Bisognerebbe guardare un po' il catechismo. C'è un passaggio da tener conto. Ama il prossimo tuo, cioè quello in tua prossimità. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di far star bene le nostre comunità. Bravo, bravo, bravissimo Fontana. Le ultime parole di Gesù sulla croce sono proprio state prima qua i Devarrona. Proprio ha detto così. Comunque... No, 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 no. Comunque Fontana è amatissimo anche per altri motivi. Non l'avevano ancora nominato che già gruppi di sostenitori si sono precipitati alla Camera per festeggiare con lui. No, ha un presidente omofobo pro Putin. Però, ragazzi, non iniziamo con i pregiudizi. Prima lasciamolo lavorare. Tra l'altro oggi il TG Com l'ha descritto così. Veronese, sempre in prima fila contro l'aborto, le unioni civili, il matrimonio tra omosessuali e la difesa delle radici cristiane dell'Europa, contrario alle sanzioni nei confronti della Russia. Beh, esatto. Però, se lo analizzi bene, cioè, su Veronese non gli si può dire niente. Comunque, fratelli d'Italia, è andato il Senato e alla Lega la Camera. Tutti contenti nel centrodestra, se fossero stati in due. Ma sono in tre. E lui non ci è rimasto benissimo. Eh, vaffanculo. Rusconi sbotta il Senato dopo le elezioni di la russa. L'avete visto in Senato, no? Dai, rivediamocelo insieme. Dai, fammi un po' vedere, vai, mandalo. Eh, ma mi avete promesso tre ministri. Tre ministri mi avete promesso. Ma vaffanculo. Cioè, ma, no, ma, povero. Scusa, Meloni. Ma Meloni, gli avevate promesso tre ministri. Eh, per ora Ronzulli fuori. Sì, perché Tajani e la Casellati pare che alla fine, eh, Andre, riescano a rientrare in qualche modo, no? Ma per la sua fisioterapista preferita non c'è stato verso. Lì c'è a Ronzulli, la fedelissima rimasta fuori. È un'ingiustizia, perché se parti infermiera e conosci Berlusconi, Poi è normale che diventi prima europarlamentare, poi senatrice e poi ministro. È un percorso standard. Il veto sulla Ronzulli è uno schiaffo alla meritocrazia. E poi voglio dire, povero Silvio, avesse mai cercato di piazzarne qualcuna, non l'ha mai fatto. Per una volta che ci prova e faglielo fare, no? Invece a sto giro, contro una donna, c'era un'altra donna. Berlusconi, gli appunti su Meloni, supponente, prepotente, arrogante, offensiva. Con lei non si può andare d'accordo. Che forte, Silvio, si è scritto gli insulti su un fogliettino. Però per non dimenticare, cioè, non li vengono mica spontanei. Deve ripassarli, prima, nella pagina a fianco... Eh, eh, ragazzi, oh... Ma io lo capisco, eh. Io inizio a non capirci più niente, per cui... Perché nella pagina a fianco degli appunti c'è scritto Respirare e battere cuore. Per cui... Eh no, che cazzo c'è. Comunque... Comunque, fra qualche giorno... Sabremo se almeno sarà riuscita a piazzare la casellata e la giustizia. Pare che lui ci tenga tantissimo. Una condanna definitiva può arrivare a Berlusconi da Rubiter entro la fine della legislatura. Per lui sarebbe di nuovo decadenza. Ma con un ministro amico, forse, può cambiare la legge. Severino, per tempo. Ma io spero che non succeda niente. No, perché essere cacciato dal Senato una volta ci sta. Ma non è che tutte le volte che metti i piedi dentro il palazzo madama poi ti devono rimbalzare e buttafuori come in discoteca, no? Cioè... In ogni caso, per Berlusconi, che questa settimana sia finita così, è un peccato, perché non gli era iniziata male la settimana. Fammi vedere, Berlusconi inaugura il centro sportivo del Monza dedicato al padre Luigi. A Monza sembrava felice, parlava del padre, e diceva che su tre fratelli il padre aveva deciso di investire solo su di lui. Tra l'altro, mentre parlava dietro, c'era anche il fratello Paolo. Me lo fai vedere. Che non era contentissimo pensare che il padre avesse dato solo. No, a un certo punto, infatti, ha portato anche via i maroni. Ma guardiamocelo, guardiamocelo.